buonasera gentili spettatori bentrovati un'altra puntata del tg question time siamo in compagnia del sindaco alessandro canelli buonasera buonasera voi andiamo a parlare di lavori frequentemente continuiamo a parlare di lavori in questa trasmissione perché di carne al fuoco ce n'è davvero tanta praticamente ogni settimana parte un cantiere a novara sarà così per un po di tempo anche lo dico subito metto le mani avanti perché ci saranno tanti disagi ovviamente in città a seguito di tutti questi cantieri che partiranno ma i cantieri bisogna farli per forza perché da una parte dobbiamo rispettare i tempi del cosiddetto PNRR cioè il piano nazionale di ripresa e resilienza che ci ha dato tante risorse da investire sulla città però dandoci dei tempi di realizzazione quindi noi siamo non è che possiamo rimandarli decidere quando farli dobbiamo farli per forza se no perdiamo i soldi e sarebbe veramente un peccato da questo punto di vista dall'altro abbiamo tantissimi lavori che dobbiamo fare per varie ragioni prima fra tutte per questioni di sicurezza e quindi non possiamo attendere se si tratta di questioni di sicurezza ma dobbiamo agire il prima possibile e poi ci sono i lavori ordinari e normali che avevamo già programmato negli anni scorsi quindi tutte queste tre cose si sommano e ovviamente fan sì che ci siano tantissimi cantieri in corso nella nostra città e ne partiranno anche molti altri in continuazione faccio un esempio adesso per esempio stanno lavorando diciamo nel cortile in quell'area del vescovado della diocesi per fare il parcheggio sotterraneo fare il parcheggio sotterraneo non è che lavoreranno solo lì si allargeranno anche all'esterno perché dovranno fare una rotonda una nuova viabilità tra via solaroli e largobellini e quindi lì ci sarà un blocco del traffico oppure un passaggio delle macchine al senso unico alternato per diverso tempo questo creerà disagi però è necessario farlo per fare il lavoro se no non si fa niente ricordiamo che serve per fare quel lavoro per il parcheggio sotterraneo ma di conseguenza per la futura pedonalizzazione di piazza martiri quindi insomma sono lavori da sopportare per avere poi una città completamente rivista tanto sono partiti i lavori anche di consolidamento delle mura del castello per esempio se passate lì vedrete i ponteggi lì ci sarà il consolidamento sono soldi europei sono finanziamenti europei sì l'avevamo detto la settimana scorsa però effettivamente effettivamente quelli diciamo non arrecano disagi perché sono circoscritti no però abbiamo tanti lavori sulle strade a parte i ponti famigerati e famosi sono partiti e partito il cantiere del punti del ter doppio sono andato a fare un sopralluogo proprio l'altro giorno adesso metteranno adesso hanno fatto diciamo così chiamiamole le fondazioni no che sono in cemento e quindi il cemento deve maturare per 28 giorni fatto quello gli appoggiano un primo ponte una prima corsia in modo tale da non far passare più le auto sul vecchio ponte che verrà immediatamente dopo demolito le macchine passeranno quindi sulla prima passerella demoliamo il ponte vecchio costruiamo un'altra corsia in prossimità del ponte vecchio e poi ci sarà un blocco di qualche giorno perché uniremo le due corsie in modo tale che non ci sia mai se non per quei due tre quattro giorni il blocco totale del traffico sul 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 ter doppio attualmente è a senso unico alternato certamente sì e abbiamo anche via fauser che appunto sono partiti i lavori così come in via bonola si sono finiti e sono partiti i lavori della via fauser è quella che porta per intenderci la radici chimica nella zona di sant'agabio quella strada lì è sempre stata senza fognature senza sottoservizi è una strada tra l'altro brutta dal punto di vista manutenzione e disconnessa dove ci passano tantissimi tir macchine camion perché c'è tanta gente che va a lavorare in quella zona lì la rifacciamo completamente se facciamo i sottoservizi quindi coedotto fognatura impiantistica elettrica per i pali della pubblica illuminazione che in questo momento non ci sono facciamo il marciapiede la pubblica illuminazione e quindi riqualifichiamo tutta la via proprio per i lavoratori che la usano molto per andare a lavorare dopodiché c'è il cantiere di via bonola che è già tutto cantierizzato sono andato a vederlo l'altro giorno sono pronti per adesso toglieranno l'amianto finito di togliere l'amianto che c'è in quell'area lì faranno alcune bonifiche dopodiché inizieranno con i lavori veri e propri di demolizione e poi di ricostruzione e poi abbiamo anche la ciclabilità il cantiere dell'extav già tutto cantierizzato un lavoro da 40 e passa milioni di euro che creerà un nuovo quartierino di delizia residenziale pubblica con impiantistica sportiva verde pubblico nella nostra città sento una mia curiosità avrà un nome questo quartiere o sarà un'espansione di... ancora non ci abbiamo pensato magari viene fuori un nome in maniera naturale come spesso accade è vero dopodiché ci sono tanti lavori sulle strade quindi adesso attaccheremo con i marciapiedi programmati le asfaltature programmate, stiamo facendo le piste ciclabili c'è chi è d'accordo e chi non è d'accordo sulle piste ciclabili, chi è pro e chi è contro insomma noi abbiamo l'obiettivo di rafforzare la ciclabilità urbana anche perché soprattutto in prossimità degli istituti scolastici dell'università perché è un obiettivo PNRR, ci è stato dato dallo Stato quindi noi abbiamo preso delle risorse dallo Stato per farle se non le facessimo diciamo così saremmo degli stupidi perché abbiamo ottenuto dei soldi per farle è anche una cosa giusta tra l'altro certo, anche perché è una mobilità sostenibile la ciclabilità in sicurezza in prossimità dei plessi diciamo universitari e quindi lo stiamo facendo sia sul Corso Trieste e sia sulla Via Perrone dopodiché ci sono tutta una serie di attività che partiranno a breve di cui magari parleremo nelle prossime puntate perché adesso abbiamo poco tempo ma mettete in conto che nei prossimi mesi partiranno un sacco di cantieri alcuni non incidono quindi sulla viabilità e quindi non daranno fastidio ai cittadini alcuni di questi purtroppo daranno fastidio speriamo di farlo nel più breve tempo possibile facciamo un accenno a quanto è avvenuto a Lumellogno la scuola che ospita l'OMAR c'è stato questo crollo più che altro un distacco da un controsuffitto di alcune parti, alcuni materiali lei ha fatto un sopralluogo proprio per verificare la situazione qual è esattamente? innanzitutto non si è verificato nella scuola non si è verificato nella palestra in quel plesso scolastico c'è una palestra sotto la palestra c'è uno spazio all'aperto che è un portico e dove talvolta in estate fanno qualche attività legata soprattutto ai greste, estivi e quant'altro e lì nel portico, quindi all'aperto che non è assolutamente quasi mai utilizzato fortunatamente direi anche c'era un controsuffitto con dei pannelli che non serviva tra l'altro a niente secondo me quel controsuffitto lì quando sono andato a fare il sopralluogo almeno così mi hanno detto i tecnici era una tecnica costruttiva che veniva utilizzata 30-40 anni fa quindi con dei pannelli agganciati a delle putrelle sopra pannelli di politirolo ma sono un materiale adesso non lo so dire con esattezza un materiale comunque sono pesantini che sono venuti giù e hanno trascinato con sé qualche calcinaccio quindi verranno eliminati a questo punto io li ho chiesto per cortesia se non servono a niente perché li teniamo via Andersen però insomma ci ha preoccupato molto questa cosa qui anche perché voglio dire questo ci dà ancora di più lo spunto e l'input per fare continui controlli anche laddove magari uno certe volte non ci va neanche a pensare perché uno di solito controlla dentro gli edifici scolastici nelle palestre negli asili questo era fuori in un sottoportico in un portico che veniva talvolta utilizzato ma per la maggior parte del tempo mai quindi comunque sì adesso a questo punto comunque sia meno male che ovviamente è avvenuto adesso non è avvenuto in piena estate per esempio abbiamo un altro argomento è quello del servizio civile universale ne parleremo domenica in modo approfondito ma lanciamo un appello ci sono ancora 15 posti da coprire quindi il bando è praticamente in scadenza ed è una grande opportunità per i giovani sì se a mio modo di vedere se un giovane vuole rafforzare le sue competenze non soltanto scolastiche quelle le rafforza a scuola studiando ma relazionali vuole imparare a fare un qualcosa che può essere utile anche per la comunità conoscere nuove persone impegnarsi in un'attività per un annetto dove prende anche diciamo così un piccolo stipendio intorno ai 500 euro 500 euro secondo me questa è una bella occasione una bella occasione per poter fare innanzitutto del bene a se stessi ma anche agli altri sicuramente e ne parleremo proprio con Luca Martelli responsabile dei progetti della cooperativa Aurive che si occupa proprio di questo servizio civile universale quindi approfondimento domenica alle ore 20 con lei signor sindaco ci rivediamo venerdì prossimo alle 20.15 buonasera a tutti buonasera a tutti voi arrivederci a tutti a tutti